benvenuti alla nuova puntata di doctor penis siamo con samuele sono passati due mesi dall'impianto vi ricorderete samuel era venuto qua prima di fare l'impianto prima di cominciare questa avventura 24 anni paziente che era già venuto nel nostro centro avevamo risolto un problema di recurbato un penieno e di una cicatrice bruttissima a livello di circoncisione non aveva risolto il problema del deficit erettile e abbiamo deciso di fare l'impianto della protesi a distanza di 60 giorni io già lo mi sembra una persona diversa una persona molto più spigliata molto più serena però sta qui vediamo che ci racconta che dici sono passati due mesi è tutta un'altra cosa finalmente ho risolto un problema non ci speravo più quasi però se finalmente ho chiuso questo disgraziato capitolo della storia senti dimmi una cosa la protesi si vede no assolutamente non è praticamente invisibile non si vede niente l'intervento come è stato tecnicamente tu mi sembra che eri mezzo sveglio hai sentito qualcosa ma quanto è durato come è stato il decorso racconta pure a chi vuole a chi ha in mente di affrontare questo tipo di percorso com'è l'iter terapeutico l'intervento sarà durato 15 minuti forse 20 al massimo stato rapido ben dolore post operatorio beh diciamo che la prima settimana un po di rogne più che altro per il drenaggio però dopo una settimana è stato un crescendo è andato sempre meglio infatti già dopo 10 12 giorni che attivavo la protesi senza problema senti la sensibilità il piacere ci sono delle differenze rispetto a prima con tutto che poi prima non avevi tutta questa erezione e soprattutto esiste anche un erezione tua spontanea perché tanti pazienti quello che mi chiedono la prima cosa soprattutto quelli giovani dice ma io dopo perderò di spontaneità dovrò avere un erezione solo meccanica attivando la protesi tu hai quelle sensazioni che avevi prima oppure è cambiato tutto no assolutamente la sensibilità è uguale effettivamente neanche io credevo tanto a questa storia delle erezione complementare comunque prendendo la protesi però effettivamente il pene si gonfia quando c'è l'eccitazione vabbè poi il glande non ha problemi perché neanche prima li aveva effettivamente infatti non ho perso neanche dimensioni non c'è non c'è stato nessun problema dal punto di vista beh quello che io dico sempre operare un paziente che ha un problema vascolare quindi non ha fibrosi non ha una ritrazione del pene il pene elastico un paziente giovane è una cosa molto molto agevole per noi è ovvio che bisogna avere una grande competenza perché operare uno di 24 anni o ce l'hai oppure lascia perdere e come abbiamo detto un'altra volta ti fanno passare poi come se fossi un matto uno psicopatico sei matto no già ho chiesto un'altra volta no bene va bene questa è una cosa molto importante io cerco sempre di insistere perché tutti possono mettere una protesi al pene pochi la sanno mettere bene e soprattutto pochi prendono la responsabilità di operare una persona giovane come samuele con la quale non non si può assolutamente sbagliare samuel hai un consiglio a un paziente di 24 30 anni come te che è andato a fare tutto quello che tu sai come percorso dal punto di vista di diagnostica di terapia per il deficit erettile ma innanzitutto mettersi in mano a gente seria perché purtroppo in italia la fuga venosa non esiste però stranamente ce l'hai quindi va bene e poi provare le pillole se funzionano bene se no affidarsi a gente seria per fare l'impianto evitando anche di spendere soldi perché esami inutili come ricci scannico dopo perché tanto no vabbè gli esami vanno fatti per fare la diagnosi è ovvio che poi procrastinare il percorso e dare l'indicazione è una cosa che stressa solamente il paziente cioè se tu c'hai una diagnosi una malattia e non rispondi coi farmaci l'unica possibilità per risolvere il problema è la protesi questo è e ce lo dice lui è non lo dico io perché sono poi sembra che io devo assolutamente tra virgolette vendere questo prodotto non è così la protesi è la cura per il deficit erettile quando non risponde ai farmaci quando non risponde alle terapie io ovviamente a samuele non posso proporre una terapia iniettiva con le prostaglandine non la propongo a un uomo di 60 anni figuriamoci a uno di 24 lo rifaresti l'avrei già fatto anni quindi sei contento bene beh questo ci fa piacere anche perché questo è quello che noi vogliamo è il risultato che noi vogliamo e ci piace tanto intervistare prima e dopo i pazienti perché prima samuele non parlava io ho rivisto il video ho rivisto quello che abbiamo fatto stava lì sembrava quasi imbambolato oggi l'ho visto arrivato già fatto due tre battute spigliato cioè ti vedo che sei e sono solo due mesi ti vedo che sei proprio da un punto di vista emotivo sociale sei rinato perché noi facciamo rinascere le persone questa è la cosa che ci interessa tutto il resto sono chiacchiere da bar va bene invito tutti quanti a mandare le proprie domande all'email in sovraimpressione a questo indirizzo ringraziamo ancora samuele ovviamente ormai sei entrato di diritto nel club antonini urologi grazie e ci vediamo alla prossima puntata di dr penis